Euro Regioni News SOS Agricoltura lanciato a Fedriga Non chiamatemi ancora Presidente ha voluto puntualizzare scaramanticamente Massimiliano Fedriga, candidato alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia per il centrodestra rivolgendosi ad una platea di agricoltori organizzata nel Cinema Teatro Impero di Martignacco dall'imprenditore Renato Zampa con moderatore Ferruccio Saro, alla quale ha ribadito di essersi dato l'obiettivo durante e dopo la campagna elettorale di rimanere sempre in ascolto del territorio per cercare di interpretarne al meglio le esigenze E se errori si faranno, ha detto Fedriga, l'ascolto servirà a rimediarli A Martignacco sono stati portati in evidenza a Fedriga i problemi ma anche le prospettive del settore agricolo che può tornare ad essere protagonista dell'economia se ci sarà un dialogo costruttivo con le istituzioni orientato a semplificazione e sburocratizzazione e un maggior atteggiamento corale propulsivo delle associazioni degli agricoltori, del mondo cooperativistico e di quello sindacale. L'agricoltura regionale in difficoltà è stato più volte sottolineato negli interventi dal palco per la farraginosità delle procedure burocratiche causata dall'autotutela ad intere filiere di funzionari pubblici Manca un ente pagatore dei finanziamenti europei, ci vorrebbero investimenti pesanti nelle infrastrutture come le irrigazioni a pioggia e andrebbe fatto un passo indietro rispetto alle monoculture di mais che hanno reso l'agricoltura incapace di produzioni alternative e di sviluppare filiere di trasformazione dei prodotti Oggi più che di agricoltura si dovrebbe parlare di agroalimentare e di agroindustriale ai quali un assessorato regionale andrebbe dedicato. Le prossime elezioni regionali, quella del Friuli Venezia Giulia in particolare, sono uno dei motivi che influenzano l'imbarazzante ritardo in cui l'Italia si destreggia nella formazione del nuovo governo. Lo abbiamo chiesto a Massimiliano Fedriga, giunto a Martignacco accompagnato da Renato Zampa organizzatore dell'incontro Non credo se la guardia rilancia sicuramente però il 29 aprile dalle 7 alle 23 i cittadini andranno a votare per scegliere il futuro governo di questa regione, il futuro della nostra terra non c'è dubbio che il Friuli Venezia Giulia però possa diventare anche capofila del vento di cambiamento a livello nazionale Ad accogliere Massimiliano Fedriga a Martignacco, gli agricoltori alcuni a bordo di trattori ma quali sono le prime valutazioni di Fedriga a fronte delle istanze provenienti dal mondo agricolo? Purtroppo l'agricoltura è stata abbandonata in questi ultimi 5 anni basta pensare al PSR basta pensare all'ente pagatore unico che non ha dato risposte alle esigenze produttive del nostro comparto agricolo è chiaro però che bisogna prima di tutto risolvere questi problemi ma guardare anche il futuro qual è il futuro dell'agricoltura noi dobbiamo pensare a una valorizzazione dei nostri prodotti trasformati che sono un valore aggiunto e farli conoscere soprattutto fuori dalla regione L'imprenditore agricolo Renato Zampa patron di Cospalat puntualizza sul declino dell'agricoltura regionale e sulla mancanza di impegno nel valorizzare ciò che si produce produrre non è sufficiente bisogna saper valorizzare oggi non abbiamo saputo valorizzare dobbiamo ridare entusiasmo voglia di fare e qualcosa di nuovo far riappropriare alla politica il proprio ruolo e condividere insieme con tutte le realtà tutte le categorie le categorie sindacali gli agricoltori gli operatori chi trasforma tutti per poter dare al Friuli una speranza altrimenti il declino non si ferma euro regioni news Grazie a tutti